Oggi è venerdì 27 ottobre e questa è la rassegna stampa di Fano TV sul canale 17. Buongiorno e ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori. Allora partiamo dal santo del giorno e poi andiamo a vedere le previsioni e i giornali. Allora oggi è Sant'Evaristo, il sole è sorto alle 7.37 e tramonterà alle 18.06. Il cielo sarà inizialmente poco nuvoloso però attenzione perché dalla serata avremo deboli rovesci maggiormente diffusi sul settore collinare e montano centro meridionale. I fenomeni si esauriranno comunque nel corso della nottata perché già vedete domani mattina, sabato avremo un cielo sereno o poco nuvoloso su quasi tutta la regione. Le temperature sono in lieve diminuzione. Anche per domenica non ci sarà il sole pieno però insomma avremo un cielo sereno o poco nuvoloso con le temperature che saranno in aumento, i venti che soffieranno con raffiche fino a burrasca e burrasca forte nelle zone alto collinare e montane. Per quanto riguarda il tempo invece della prossima settimana sarà un tempo decisamente ancora discreto quindi continueremo a godere di queste giornate che durante le ore centrali della giornata saranno ancora davvero belle, giornate primaverili. Un putiferio, un putiferio con questa storia di Halloween, questa idea dei musei pesaresi di organizzare questa cosa ma di presentarla soprattutto in un modo assolutamente osceno. Andiamo a vedere perché tutti e due i quotidiani, sia il resto del Carino che il Corriere Adriatico dedicano a questa protesta soprattutto perché poi di fatto si parla oggi di proteste soprattutto di genitori, due pagine a questo evento. Cominciamo dal Corriere Adriatico, questa è la pagina dell'edizione pesarese e il titolo è Bambini e bambole voodoo, protesta e firme dei cattolici ma non ci sono soltanto i cattolici, cambia il programma della serata ma la polemica per Halloween contro il Comune di Pesaro monta anche online. c'è una petizione che è partita e che ha raccolto in pochissime ore davvero centinaia, centinaia, migliaia di firme. Allora andiamo a vedere la prima pagina perché è una cosa che sembra banale ma non è banale affatto. Si leva la protesta dei cattolici e la bambola voodoo sparisce. Il Comune dunque corregge il programma della serata di Halloween per i bimbi al museo inserendo un personaggio. Allora la GAF, chiamiamola così, di Halloween, questa leggerezza degli organizzatori del Comune di Pesaro che per il 31 ottobre hanno organizzato per i bambini dai 5 a 11 anni una serata da brivido ai musei. Si parla di bambole e fetici, storie di occhi perduti, poi c'è un picnic previsto, perlomeno era quello previsto, il programma che c'era prima. Anche le parole che sono state usate per promuovere questo evento certamente sono parole sbagliate, sbagliatissime. La cena la portate voi ma il sangue lo offriamo noi. Cioè, anche un genitore che iscrive i figli a una roba del genere, io penso più ai genitori che ai bambini perché non credo che i bambini abbiano letto questo programma. E se qualcuno, visto che c'è stato il, come si dice adesso con tutti questi termini americani, il sold out, vogliamo parlare italiano, diciamo il tutto esaurito, ci vuole tanto, tanto l'inchiostro ormai è quello, insomma, non è che ci vuole... Quindi tutto esaurito, sold out, vabbè, adesso va di moda sold out, diciamo tutto esaurito, cominciamo a usare i termini italiani. Anche Halloween, una stupidata americana che continuano a propinarci dalle televisioni che con i canali televisivi, quelli dedicati ai bambini, fanno una testa così. E vabbè, insomma, quindi cominciamo e torniamo a parlare l'italiano. Quindi tutto esaurito per questa cosa qua. Poi alle 21 era prevista la costruzione della bambola voodoo. Se dovete prendere, con sottotitolo, se dovete prendervela con qualcuno, meglio un feticcio. Cioè possiamo, veramente... E ci sono genitori che magari hanno detto, ah, bella questa cosa, andiamo, iscriviamo i nostri figli. State lontani da queste cose, state lontani da queste cose. Anche dalle feste che vengono fatte altrove, tipo Notte delle Streghe, per piccoli adulti, tante occasioni per festeggiare la tradizione pagana. Pagana. Poi, eccola qua la petizione online. In un giorno già 3.000 firme l'ha lanciata un pesarese indignato. Voodoo, come insegnare il bullismo. La pagina di Pesaro, invece, in primo piano c'è la storia di questo pesarese, l'odissea di questo pesarese detenuto da due anni in Venezuela per un banale traffico di volatili che potrebbe finire presto. Ora manca solo la richiesta di estradizione che deve approvare la Corte d'Appello di Ancona. Ma non si sa quando arriverà. E sopra, eccola qua, sotto la testata, bambolina V2 rivolta, il comune non torna, non torna indietro. Halloween, raffica di lettere contro l'iniziativa dei musei civici, circa 2.000 sottoscrizioni online. Poi tante mail di genitori. E non solo, modificata solo la formula dell'invito, forse, dicono gli organizzatori, abbiamo usato toni forti. Poi sono stati controllati due night. Le ballerine erano impreparate sul corso antincendio, maxi multa al titolare. E poi parla illegale del ragazzo abusato dallo psichiatra. Lo psichiatra adesso è all'estero, probabilmente a Londra. Forse ci sono altre vittime. La famiglia lo conosceva e si fidava di lui. Ma dicevamo di queste ancora due pagine dedicate al caso del giorno, a questa iniziativa dei musei pesaresi con il giorno di Halloween. È fuorviante, parla lo psichiatra, scusate lo psicologo, psicoterapeuta, Fabio Gemignani, che dice distruggere una bambola è un'esperienza sadica, è fuorviante. Insegnare ai bambini a prendersela con qualcuno. È come il caso di Walter Chiari che cercava le chiavi perse sotto il lampione perché c'era più luce. Il meccanismo del bullismo me la prendo con qualcuno che non reagisce, quindi la bambola, che non mostrando la sua sofferenza mi salva dalla mia cattiveria. Questo è il meccanismo spiegato dal bullismo. L'altra pagina, la seconda pagina che dedica il resto del carino a questa cosa, raffica di lettere, 2000 sottoscrizioni, famiglie in rivolta contro il voodoo, ma il museo si difende. Abbiamo già modificato il testo del programma. Cosa dicono alcuni genitori? Tra il giocare ad essere mostri e di insegnare certi riti c'è davvero una bella differenza. Il direttore del sistema museo dice il sold out, Silvano Straccini, è un costante stimolo a crescere e a migliorarci. Ecco, cerchete allora di migliorarvi perché di stimoli ne avete creati abbastanza. Potrebbero esserci invece altre vittime, era già stato attenzionato, parliamo della violenza in terapia di quello psichiatra, almeno presunta. Parla il legale del ragazzo abusato a 13 anni. Il legale Stefano Caroli dice che quella famiglia ha speso un sacco di soldi, ha speso una follia per il bene del loro figlio, per avere poi in cambio quello che hanno subito. Durante le sedute lo psichiatra, dice questo ragazzo di 13 anni, che ha in cura, che il suo malessere dipende dal fatto che non aveva accettato di essere omosessuale. Questa era la teoria strampalata dello psichiatra. E quindi che cosa fa? Lo psichiatra inizia ad abusare di questo povero ragazzino. Questo sempre secondo l'accusa. Iniziano una serie di incontri, sia nello studio dello psichiatra, che anche in altri luoghi, finché il ragazzo poi non dice tutto ai genitori. C'era l'intervista di Elisabetta Rossi al legale della famiglia. La pagina di Fano invece si occupa della situazione degli impianti sportivi a Fano. Dai bagni alle tribune, impianti sportivi a pezzi, il nostro viaggio nelle strutture che tendono interventi da anni. Le attività sono a rischio. La questione della Profit Glass, ricorderete, qualcuno ricorderà che due persone, due ex operai, erano finiti a processo con l'accusa di aver tentato di estorcere 30 mila euro al loro adottore di lavoro, cioè Giancarlo Paci, che vedete in questa fotografia, il titolare della Profit Glass, dietro la minaccia di denunciare a giornali e televisioni quelle che per loro erano le condizioni di insalubrità all'interno dell'azienda. Ora, quella fu estorsione. Sono stati condannati gli ex operai, si è concluso ieri dopo due anni e mezzo il primo grado del processo. Per i giudici, Ottieri e Amato, minacciarono il titolare Paci per ottenere 30 mila euro. Ma gli imputati dicono siamo innocenti e andremo avanti finché la verità non verrà fuori. E anche qui, giovani e belle e abusive, nei guai ballerine del night, i carabinieri e Asur sono entrati in due locali notturni di Serra Santa Bondio e di Cantiano, multa di 30 mila euro quando gliel'hanno detto il titolare si è sentito male. 3 mila euro invece, siamo sulla pagina di Fanno il Valle del Cesano, da Mondolfo, 3 mila euro per un loculo, il cimitero va sul mercato, dopo anni torna possibile acquistare l'estremo giaciglio, emergenza, tumulazione, 450 posti in più nel 2018. Furto a Monte Felcino, un ladro si infila nella grata, ha ripulita l'edicola nella notte, ha usato un piede di porco, ha allargato l'inferiata ed è passato in uno spazio di 26 centimetri. Ecco l'inferiata che è stata allargata e l'edicola dove appunto è avvenuto il furto, la protezione aperta con una scatoletta da delinquente acrobata. La pagina di Urbino apre il cantiere antidegrado, il ghetto sarà eliminato, lavori assegnati da martedì, il sindaco vogliamo rifare un quartiere normale, dunque partono i lavori di riqualificazione del primo lotto di appartamenti di Ponte Armellina. La pagina di Fano, cambiamo giornale, andiamo sul Corriere Adriatico. Ricatto a Paci, due condanne, un anno e due mesi all'ex dipendente Ottieri per tentata istorsione, due mesi invece ad Amato per esercizio arbitrario delle sue ragioni. Avevano minacciato di rivelare in mass media la presunta mancanza di condizioni di sicurezza attratamente documentata. Psichiatra accusato di abusi su un ragazzino, la vicenda rivelata dalla vittima dopo anni quando si accorse di preferire le donne. Il Comune rileva il fabbricato di Gimarra per realizzare il nuovo centro civico, un passo avanti contro l'ecomostro, ma la Polo Holding rimborsati 30.000 euro. Andiamo sull'altra pagina del Corriere Adriatico. La politica, politica e sport. Ora il PD sfiducia gli assessori, minoranze in coro sullo sport, il partito di Pucci che alza il confronto, responsabile del governo, ma le carenze sono note. Valle del Cesano, due nightclub sotto sequestro, lapdancer senza contratto, blitz dei carabinieri Asur a Serra e Cantiano, elevate sanzioni e ammende per 80.000 euro. Qui la cifra è un po' diversa rispetto ai 30 che erano scritti di là. Invece senza lavoro da Marotta e senza lavoro e con la casa all'asta, l'appello di un, la disperazione anzi, di un padre di 64 anni, aiutatemi, ho una figlia disabile. In graduatoria al nono posto, per avere e per ottenere le case popolare. La situazione è di Casmi, Fornaio, ora cittadino italiano, aggravata da un infortunio sul lavoro. Andiamo sulla pagina di Senigallia. No alle quattro classi trottola, in consiglio l'ira dei genitori, al liceo scientifico le aule ruotano quando gli alunni sono nei laboratori. E poi due notizie dalla pagina di Ancona. Adesca una bambina in chat, solo 10 mesi al pedofilo. Il PM aveva chiesto sei anni e mezzo, ma per il giudice ha un vizio di mente. Alla parte civile 10.000 euro. L'altra pagina, ragazzine nude su WhatsApp, c'è l'ombra della prostituzione a Fabriano. Sette persone sono finite nel mirino. La denuncia di un papà disperato che si è accorto che la figlia, 17enne, aveva nel suo cellulare delle foto di lei, nuda o seminuda. E così è partita questa inchiesta nei mesi scorsi tra la città di Fabriano, Porto Recanati, Falconara. E la vicenda, ora che è tutta chiaramente da accertare, stando ai primi indizi raccolti, ha messo nei guai alcune persone che adesso sono indagate e ci sono diverse persone, tra cui anche una poco più che maggiorenne. Tutti i dettagli sul Corriere Adriatico di oggi, l'edizione di Pesaro. Io mi fermo qui. Allora, questo è il numero 338-4968-250 per le vostre segnalazioni. Grazie per averci seguito. Ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale. e vi ricordo, oggi è venerdì, giusto? Oggi è venerdì e allora questa sera non perdetevi l'appuntamento con il film Gli Sbancati 2 in prima, primissima visione. Non sono previste repliche, quindi subito dopo il TG, Gli Sbancati 2. Grazie per averci seguito. Buona giornata. Grazie per averci seguito.